Consigliere, qual è la situazione? È vero che è Manfredonia il problema o c'è qualcosa d'altro? Lei che ha fatto i rifiuti ha fatto anche un po' la sua storia. Il problema non è Manfredonia ma è il piano regionale dei rifiuti della regione Puglia che è assolutamente inadeguato alle esigenze dei cittadini della regione e quindi c'è bisogno assolutamente di fare un piano dei rifiuti che sia serio, che sia adeguato a quello che fa bisogno. Ripeto, sono impianti non soddisfacenti, non sufficienti per tutto il rifiuto che viene prodotto in regione Puglia. C'è una scarsa raccolta differenziata, perché è così complessa non è complessa, è più costosa all'inizio, è sicuramente difficile da far digerire i cittadini e quindi è un problema per i politici imporla, però bisogna farla assolutamente, bisogna avere il coraggio di fare quelle cose che anche i cittadini non gradiscono, perché se no sarebbe troppo bello fare soltanto le cose che piacciono.